quelle bolle no sono delle bolle lì strane no vede che ci sono quelle bolle lì delle bolle perché stavo guardando appunto come faccio riprese qua come parte ma sono strane bolle qua che emergono dal porticciolo di quale gli azizi sono giornalista se faccio a lei giornalista e vedo che un bel pesce lì che c'è in giro però sembrava non sembra un pesce ho capito siamo un pesce siluro magari che vede che c'è quella bolla guarda che qua sta sotto il municipio di l'aziz e c'è un signore qua anche lui perplesso che sta guardando ecco saluto vediamo queste bolle che si ripargono e vengono su intanto si spostano e si muovono vedete c'è qualche non pensiamo che sia il mostro del lago ma queste bolle sono alquanto curiose anche perché si spostano e ci sono due cini che si stengono a debito a distanza quindi documentiamo questa bollitura del lago magari che sia qualcuno che ha buttato giù la pasta e sta cuocendola e magari vengono sulle bolle per quel motivo lì chi lo sa ma intanto questo bollimento continua e vediamo che quando smetterà